C'è la taurina c'è la sagra 20, la torre è mandata a coppia e c'è la stravallo berg, il 30 c'è il 70-80 se ti interessa io me lo andiamo a coppia, io vado e vediamo se riesco ad andare a coppia non sono la stravallo berg è bello, qua abbiamo visto che qui fa musica commerciale con i 50 c'è il 50 c'è il 30 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 c'è Sì, è un po' di gioco Sì, è un po' di gioco C'è il DJ Però non so che musica fa Provo vedere tutte le cose Se riesce a vedere Allora, il ristorante Riviera Riviera Non so se è lo stesso Pornomano Trenta Come sto qua a vedere, si è già messo Se c'è dimenticata che va a vedere Poi non lo telefonato Perché invece non c'è un po' di gioco Sì, è un po' di gioco Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.